a posto tutto bello pulito pettinato e profumato a che bello mi sono appena accorto che ho fatto solo un pezzo ho sbagliato sono tornato indietro non fesso ok 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 mi sta dicendo ma queste salattiti mi faranno male non me ne frega niente no 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 ma proprio sempre sempre più no no non voglio andare dal cane basta ti prego spacco tutto spacco tutto oppure no per scadere tutto non è la mia firma quella comunque va bene però io adesso ho l'abilità dalla mia parte mi consentirà di morire dubito perfetto ok salta ti prego sta cacchio di qui frena bravo no no bastardo e niente sono finito dentro l'acqua molto bene non conosco ma mi sembra un gioco invecchiato bene no e io continuo a entrare in questo fottuto negozio ti prego ti prego no non voglio comprare niente no allora qua mi pare che dovevo togliere no 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 devo togliere la musica prima come si faceva f5 che cazzo ok ma che printer no no mi sta facendo stampare le le sto stampando aiuto sto stampando i punteggi va bene la pozione disturba i movimenti di yattaro che indietreggia mentre i manici dei nunciaco cozzano tra loro disordinatamente dai questa è stata una bella scelta è il momento di di lanciare i tuoi shuriken no perché gli shuriken no non voglio lanciare gli shuriken sono una pippa e noi siamo tutti ammucchiati qua ok va bene cioè stanno combattendo in questo momento cosa sta succedendo ok il talismano ti da una mano cosa no cosa pietro cosa no il coso triplo che cos'è cioè non puoi non può essere nulla oddio sì sì me lo fa saltare attenzione ha 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 Yeah!